Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Gary Barnes, una delle colonne del jazz, che ha scritto le pagine più belle della storia del jazz e della musica afroamericana, insieme a tanti grandi come Mars Davis, McToy Tanner, Mingus, Max Roach e tanti altri ancora. E quindi veramente siamo anorati di averlo qui a San Severo Vintage Jazz anche a chiusura di questa stagione e come anche unica data per il sud Italia. Gary, dopo 50 anni di esperienza in musica, quale sarà il tuo messaggio alla nuova generazione del jazz? Non mi guardo come se fosse una nuova generazione, mi guardo come se fosse una continuazione della musica. Non ha nulla a doggio con il jazz, ha tutto a doggio con la musica. Hai alcuni consigli o qualcosa che ti piace? Non ha nulla a doggio con la musica, studiare la musica, andate come se fosse una nuova generazione, andate all'ultima volta, andate a Beethoven, andate a Mozart, andate a Bach, andate a dove andate a doggio. Il jazz, la so-called jazz, è una nuova generazione, è una nuova generazione, è una nuova generazione, la musica è una nuova generazione. Ok, e qual'è la tua opinione su BAM, su Nicolas Payton's idea di musica black americana? Qual'è la tua opinione? E' meglio che il jazz. E' meglio che il jazz. E' meglio che il jazz, ma la chiamare la musica. Solo musica. Solo. 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 Grazie a tutti.